Continuiamo a parlare di arte, tradizioni, cultura con Carta Pesta, Carnevale di Fanno e il film, ma prima di presentarvi l'ospite in studio partiamo da qui. Stimulare attraverso le immagini il desiderio di riappropriarsi e di conoscere questo carattere identitario che è il Carnevale. Vi rimmergerete in un'enorme emozione che vi riporterà quando avevate due anni. Io credo che attraverso questo film una bella, buona e sana curiosità potrebbe emergere. Un'enorme, 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 un'enorme. Emozioni, ricordi e immagini inedite in questo docufilm che martedì sera è stato proiettato al cinema in anteprima per la stampa, le istituzioni e per tutti coloro che hanno collaborato questa pellicola che porta la firma del regista Andrea Lodovichetti. Benvenuto nei nostri studi. Grazie e buonasera a tutti. Quali sono state innanzitutto le sensazioni, le emozioni del pubblico presente in sala? Le emozioni del pubblico sono state quelle che abbiamo provato noi, nel senso di aver potuto condividere un'emozione comune. Noi personalmente, parlo al plurale perché parlo anche a nome dei miei coautori, Luca Caprara e Nicola Nicoletti, noi ci siamo realmente emozionati avendo percepito sulla pelle l'emozione del pubblico. Quindi per noi è stata una gioia enorme, immensa. Come e quando è nato il progetto? Il progetto è nato due anni fa per la nostra volontà, esattamente come per Pescamare, di raccontare un qualcosa che ci appartiene e quindi di avere questa ambizione, che non è mai presunzione, di far conoscere, di condividere con chi non è al corrente qualcosa di bellissimo che ci riguarda. Quindi abbiamo il mezzo cinematografico, perché non tentare? Quante persone hanno collaborato al progetto? Per questo progetto, allora, direttamente hanno collaborato una trentina di persone. E io, non senza orgoglio, ribadisco sempre che sono tutte marchigiane e una buona parte delle quali sono fanesi. Quindi ancora più sentito è stato. Al di là di questi 30, 25, 30, 35 persone della Trout, ci sono tutti i fanesi che ci hanno dato del materiale di repertorio inedito. Infatti ricordo che proprio su Fano TV aveva lanciato un appello per richiedere ai cittadini queste immagini inedite. Quanto materiale vi è arrivato? Noi facciamo questo appello chiedendoci tra noi, e noi speriamo che qualcuno ci metta a disposizione, apriti cielo. Ci ha stupito il fatto che ci sono arrivate centinaia di ore di materiale, molto del quale inedito. Cioè persone che ci hanno affidato i loro ricordi, persone che hanno volutamente per questo progetto scartabellato scatoloni, cantine, polverose, e ci hanno dato questo materiale. Il materiale che spesso e volentieri neanche loro avevano mai visto, perché magari è girato dagli zii, dai genitori, dai nonni, informati per cui oggi è poco pratica la riproduzione. Parlo delle pellicole Super 8. Noi questa roba ce l'abbiamo perché i nostri concittadini ce l'hanno regalata. Più le tante testimonianze che avete raccolto. Più le tantissime testimonianze che abbiamo raccolto, e tutte convergeranno comunque in un contenitore molto più ampio che sarà quello della fabbrica del Carnevale, parte delle quali invece sono anche confluiti all'interno del film. Quindi sì, tantissime testimonianze. C'è anche un bambino protagonista del film insieme al Voulon, ma vorrei chiedere qual è il suo primo ricordo da bambino del Carnevale di Fano e qual è la scena che le è rimasta più impressa? Sì, allora, il bambino Edoardo Davide Pignattaro, il giovanissimo attore per la prima volta sullo schermo, accompagnato da Simone Di Otallevi, che a Fano è un attore ormai rodato, è un po' il pretesto narrativo che ci siamo inventati come Phil Rouge per raccontare tutta la storia. E noi siamo proprio partiti da noi bambini rispetto al Carnevale, noi autori, per cercare di imbastire una struttura che ci convincesse, soprattutto emotivamente. Per quanto riguarda me, io ho due ricordi in realtà del Carnevale. Il primo che mi viene in mente non è legato alla sfilata, ma è legato a un giovedì grasso. A un giovedì grasso all'epoca, non ricordo quanti anni avessi, ma credo terza, quarta elementare, qualcosa del genere, con mia madre, vestito da carcerato, questo me lo ricordo bene, con un vestito fatto da mia nonna, insomma, di tutto questo mondo di un'epoca che forse non c'è più, e vinsi, non mi ricordo di quale concorso si trattasse, il primo premio per la miglior maschera, con questo vestitino da carcerato. Un altro invece, però, ero più grandino, perché il carro è dell'89, il famoso e pluricitato Drago, che vediamo anche nelle immagini, che uno dei carristi di oggi racconta e dice io quando avevo tre anni questo Drago mi ha cambiato la vita, io di anni non ne avevo tre, ne avevo tredici, e non mi ha cambiato la vita, però per me il carro del Carnevale di Fano è il famoso Drago del 1989, riproposto anche l'anno successivo. Quando il pubblico potrà vedere Cartapesta? Il pubblico potrà vedere Cartapesta a partire da domenica, quindi manca pochissimo, da domenica nei cinema della città, per il momento, quindi Masetti, Politeama e Giometti, cinema, con orari e programmazione che ogni cittadino, consultando i siti dei rispettivi esercenti, può vedere gli slot e tutti gli orari. Diamo uno sguardo anche al futuro, abbiamo parlato prima di bambini, coinvolgerete le scuole in qualche modo? Sì, questa è una cosa molto importante, perché l'assessore Santorelli ha avuto questa, io trovo un'ottima idea, che nell'ambito del Carnevale 2025, all'interno del quale il nostro film verrà ovviamente riproposto, con formule e idee su cui già stiamo pensando, ma non possiamo svelare di più, però l'assessore Santorelli ci teneva, e si farà, che il film fosse proiettato per gli studenti delle scuole di Fano, perché c'è un forte legame, anche poi per chi vedrà il film capirà, tra quello che è il passato, che si traduce in presente, ma che soprattutto si rilanci nel futuro. Insomma, avete ancora tanto lavoro da fare, ma c'è qualche aneddoto, qualche curiosità, che possiamo svelare al nostro pubblico? Ma gli aneddoti in realtà sono tantissimi. O anche qualcosa dietro le quinte. Sì, no, vorrei permettermi di dire questo piccolo aneddoto, che è legato alla proiezione che c'è stata poco fa, quella diciamo a porte chiuse per stampa, istituzioni ed addetti ai lavori. Mi è arrivato un messaggio della figlia di uno degli storici carristi di Fano, che mi diceva che al termine della proiezione, il padre si è voltato immediatamente, appena sono accese le luci, guardando un collega, quindi un altro dei carristi storici, e rivolgendosi a lui, gli ha detto, proprio in fanese, e così lo riporto virgolettato, oh, è proprio bel. Al di là della fanesitudine, quello che a noi autori fa veramente piacere, ha fatto veramente piacere di questo messaggio, che al di là della restituzione dell'affetto dei nuovi carristi, anche da parte dei vecchi carristi, per i quali il carnevale è una cosa sacra, hanno trovato, perlomeno io credo, nel nostro lavoro, un'onestà intellettuale, che è quella che noi ci premuravamo di avere, evidentemente pare che ce l'abbiamo fatta, e questa per noi è una soddisfazione enorme. Intanto diamo un altro piccolo regalo ai nostri telespettatori, perché dopo il telegiornale trasmetteremo uno speciale anteprima, un video di circa sette minuti, giusto, che avete proiettato soltanto a Roma? Sì, è un video inedito che abbiamo realizzato ad hoc nel momento in cui ci hanno invitato a Roma per la presentazione di questo film, che è un breve filmato, che ovviamente il film dura un'ora e quaranta minuti, questo è un filmato di sette minuti, all'interno del quale abbiamo cercato, ovviamente per sommi capi, di raccontare quello che più o meno, secondo noi, è l'anima di quello che tutti i fanesi e non potranno vedere a partire da domenica mattina nei cinema della città di Fano. Colgo l'occasione anche per ringraziarvi di questa collaborazione con Fano TV, di cui ne siamo veramente fieri e orgogliosi. Fano TV è il media partner del progetto, ci siamo sempre dati una mano, e questo è molto importante, come ho già detto anche nella presentazione. Un giornalista scrisse, riferito a questo film, nel film del carnevale di Fano vince la città, perché è veramente una sinergia assoluta tra quelli che hanno fatto il film, quelli che hanno contribuito a fare il film, quelli che hanno fatto in modo che il film si facesse, e quelli che hanno dato qualsiasi cosa affinché il film potesse avere quel quid che fa dire siamo di Fano, sì, siamo ambiziosi, sì, siamo vuloni, sì. Sì, un film della città per la città. Assolutamente. Grazie ancora regista Anese Andrea Lodovichetti, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e in particolare con il progetto nazionale intitolato Ciascuno a modo suo, tratto da un testo di Luigi Pirandello che il 16 e 17 novembre farà tappa a Fano, anticipato da uno spettacolo di danza venerdì 15. coinvolti nell'opera anche gli attori della compagnia teatrale Ex Novo. Ciascuno a suo modo una frase emblematica di Pirandello che datitola un progetto, un progetto che riguarda la Human Library, ma anche teatro. Di che cosa si tratta? Questo testo che Pirandello ha scritto anzi esattamente 100 anni fa parla dei punti di vista, ciascuno può cambiare idea se conosce o meno la realtà così com'è, non così come sembra o così come viene raccontata dagli altri. Quindi noi abbiamo approfittato di questo centenario del testo per rimettere in scena questo spettacolo che non è molto spesso rappresentato e nello stesso tempo mettere insieme l'idea delle Human Library, cioè racconti di storie, di persone del territorio, dei vari territori nazionali, in questo preciso territorio fanese, per raccontare delle storie che altrimenti andrebbero perse nell'oblio probabilmente. Quindi è una tappa di un circuito che si fa a livello nazionale? Sì, siamo molto contenti che Fano sia una delle città, delle sei città, di sei regioni diverse prescelte per questo progetto. Abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria sia in termini di partecipazione delle Human Library ma anche come accoglienza da parte delle istituzioni e dei privati che ci hanno sostenuto in questo. E quando avrà luogo lo spettacolo e dove? Lo spettacolo avrà luogo il 15, 16 e 17, adesso di novembre. Il 15 ci sarà una anteprima in piazza con uno spettacolo di danza e poi il 16 e il 17 alla loggia di San Michele qui a Fano, vicino all'arco di Augusto, invece sia lo spettacolo teatrale che le Human Library che precederanno e diciamo seguiranno lo spettacolo stesso. E chi lo interpreterà? Lo spettacolo è interpretato da alcuni attori della compagnia Ex Novo di Fano che sono mischiati con la compagnia monolocale di Roma quindi in questa rete di collaborazioni che è un po' l'imprinting del nostro lavoro di Oltre le Parole dove cerchiamo di mettere appunto in connessione persone, associazioni, di istituzioni con l'intento e l'obiettivo di fare rete appunto per migliorare il nostro lavoro e la nostra società se possibile. La bigliettazione? È tutto gratuito grazie a un co-finanziamento del MIC del Ministero della Cultura e agli sponsor e alle istituzioni locali che si sono rivelate molto attente quindi a differenza di altre città dove abbiamo potuto fare soltanto una replica in questo caso grazie anche alla Regione Marche insomma abbiamo potuto moltiplicare gli avvenimenti le attività e tutto gratuitamente per i cittadini. grazie a tutti i cittadini